Ah a casa è bellissima questa è bellissima Questa è l'entrata, poi man mano giri tutto intorno Vieni Valeria Ah no questa non l'abbiamo toccata Questa sembra un po' tattissima No vai avanti vai avanti poi c'è la cosa L'altra è l'entrata Di qua Non sto fare l'entrata Mario prosegui vai avanti Certo che in Italia non ci arriveremo mai Una cosa così Noi facciamo gli scultori Ma questa è piccola? Sì Stiamo facendo le pelle dopo che passa stile Hai letto Mario? Sì Ciao 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 Come on.